Capitane Tatiana Garbin, quali le scelte e i motivi delle convocazioni? Saranno presenti due giocatrici molto affermati come Sara Arrani e Francesca Schiavone e abbiamo la presenza di due giocatrici nuove che rappresenteranno per la prima volta la nazionale quindi si tratta di Jasmine Paolini e Martina Trevisan due giocatrici nuove che hanno bisogno di conoscere questa nazionale e attraverso due grandi giocatrici affermati come Francesca e Sara avremo la possibilità di far sì che queste giovani promesse imparino tanto La Terra Rossa vi favorirà come pensiamo anche l'assenza della Sibulkov per la Slovacchia? Siamo molto felici che quella settimana non ci sia la Sibulkova ma come sappiamo in Fed Cup tante volte la classifica viene sovvertita molto facilmente quindi giocare per la nostra nazionale e per le nostre giocatrici è fondamentale molto importante è una priorità quindi insomma siamo molto cari che abbiamo voglia di fare bene